Quasi da tutti. Ragazzi, io direi che quando la gente comincia a scherzare troppo con il fuoco, adesso il fuoco si è acceso. Siccome voi sapete benissimo che bastano tre segnalazioni per questi canaletti qua da quattro soldi, che continuano a mettere il mio nome, adesso noi ci facciamo delle belle segnalazioni. Facciamo chiudere come il canale di Bergomi Game, questi ancora non hanno capito con chi stanno avendo a che fare. Adesso io vi lascio tre link di questo elemento qua che continua ancora a fare video contro di mente. Siccome lui non la vuole capire, adesso glielo segnaliamo, disegniamo bel tre video e glielo facciamo chiudere il canale, va bene? Ci vogliono dalle mille alle 1200 segnalazioni. I video sono questi qua, vi lascio tutte tre i link in basso, così alla fine ce lo togliamo da mare. Perché tanto questa agenda al web non porta niente. Che stai a fare? Mette solo il mio cognomeno. Deve essere eliminato. Questo è il primo video. Donati Inglese denigra i piccoli canali. Questo è il primo. Adesso ne andiamo a trovare un altro. Vi lascio tutti e tre i canali. Donati Inglese ne avrà fatti 200 questo qua. Questo si dice che è milanista. Se metti il tuo nome spieghiamo dove sono i miei nomi. Ti spieghi il perché. Donati Inglese, metti il tuo nome. Questo è il secondo. Basta, facciamo come quell'altro. Adesso che ce l'abbiamo fatto togliere, quello sputo a Donati Inglese. E' diventato la tua ossessione, sei noioso. Va bene. Siccome non la vuole capire questo qua, a parte che... Dostituci, indostituci. Gli metto tutte e tre. Siccome la vita segnala, spam, spam. Segnalate in massa spam spam spam. Dove sta a segnare spam 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 spam. Dove essere sbattuto fuori questo qua. Donati Inglese la live. Ancora, vedete? Guarda quanti video ha fatto. Guarda, guarda. Le live. Vedete questo qua? Beh, mi piace. Così sparesce. Addirittura qua, viola proprio il copyright qua. Dandome una questione di risposta. Vabbè, vi lascio quei link in basso. E la prossima volta che trovo video, oggi ho fatto togliere un altro, non lo potete mettere il nome e cognome. E oggi, dato da oggi, ho deciso che il nome e cognome non lo potete mettere. Siccome è una violazione di YouTube, adesso vi mando mille segnalazioni con i miei iscritti e vi facciamo chiudere. Mi dispiace. Questo canale per me non serve al web. Cioè, è un canale che mi dica che cosa serve. Un canale che fa solamente video inutili con una persona. Se fosse stato, per me, operato YouTube, l'avrebbe già dovuto chiudere. Siccome non glielo chiuderà mai, perché nessuno segna... Adesso incominciamo a fare gli stronzi, incominciamo a segnalare. Ma ne abbiamo tutti il diritto di segnalare questi canali inutili. Visto che avete visto che sta cambiando la monetizzazione. Questa è gente che sul web non deve stare più. Poi vi segnaliamo pure quell'altro, poi dopo ve lo dirlo. Dando tre segnalazioni a testa. Per tre link che vi metto in basso. E facciamo chiudere il canale a questo qua, perché questo ormai basta sul web, non serve a niente. Va bene? Vi lascio tutti i link in basso. Mi raccomando, segnalate per contenuti indesiderati. Indesiderati. Capito? Indesiderati. O spam. 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 Io lo tolgo in quattro secondi. Mi tolgono tutti i video, questo elemento qua. Che poi tra l'altro, se mi incontrasse faccia e faccia, non direbbe neanche una parola. Hanno tutti il coraggio sul web. Saluti.